20 nuovi dipendenti entro l'anno e poi altri 11 tra il 2021 e il 2022. La provincia di Piacenza torna ad assumere. L'ente di Corso Garibaldi ha infatti approvato il piano occupazionale per il prossimo triennio, che prevede 31 nuove unità in organico, sia per potenziare gli uffici che per compensare alcuni pensionamenti. Le selezioni verranno effettuate appena possibile, dato che al momento i concorsi pubblici sono sospesi a causa dell'emergenza sanitaria da coronavirus. Per il 2020 la provincia è pronta ad assumere a tempo indeterminato due cantonieri, cinque istruttori amministrativi contabili, un agente di polizia provinciale, quattro geometri assistenti alla manutenzione, tre istruttori direttivi, un funzionario di polizia provinciale e un istruttore direttivo urbanista. Si intende inoltre stipulare contratti a tempo determinato con due figure specializzate nella progettazione antisismica e un addetto stampa. Alla fine di quest'anno il personale totale passerà da 150 a 160 dipendenti. Già dal 2018 l'ente di Corso Garibaldi ha potuto riavviare le assunzioni perché conta su un bilancio sano. E pensare che fino a qualche anno fa si voleva abolire definitivamente questi organi istituzionali. Nel 2014 la riforma del Rio chiese di dimezzare la spesa per il personale, bloccando per diversi anni l'ampliamento di organico, ma ora la provincia di Piacenza torna a mostrare i muscoli, con un maxipiano occupazionale e la consapevolezza delle attività cruciali svolte sul territorio, tra cui l'edilizia scolastica e la gestione di oltre un migliaio di chilometri di strade.